quindi lo metto in votazione. Grazie. Grazie. La votazione è aperta con il parere contrario del Governo. Numero 41, Sorial. Piepoli. Piepoli. Archie. Archie. Ci siamo? La votazione è chiusa. Presenti 369, tanti 367, astenuti 2, maggioranza 184. Favore di 115, contraria di 251. La Camera respinge. Onorevole Sibilia, il gruppo del Movimento 5 Stelle ha terminato anche il tempo aggiuntivo che è stato dato dalla Presidente della Camera. Ovviamente, sugli ordini del giorno su cui ci sono riformulazioni, darò la parola per un minuto per dire se... Va bene, vediamo, onorevole Sibilia, come evolve la situazione. Onorevole Duva, è accolto come raccomandazione. Va bene. Onorevole Castelli è favorevole, quindi presumo che vada bene. Onorevole De Rosa, c'è una proposta di riformulazione. Sì, Presidente, visto che abbiamo assistito a una farsa per tutto il giorno, non accetto la riformulazione e non mettiamo in votazione. Bene, la ringrazio. Col parere contrario del Governo, 44 De Rosa, la votazione è aperta. Di Benedetto. Di Benedetto. Eccola. Bene. Altri? La votazione è chiusa. Presenti 382, votanti 380, astenuti 2, maggioranza 191, favore di 101, contene 279, la Camera respinge. Carinelli, c'è una proposta di riformulazione. Va bene? Qualcuno mi dà? Ok, bene. Baroni è accolto come raccomandazione. Va bene? Ok. Vacca è favorevole, quindi presumo che vada bene. Frusone è accolto come raccomandazione. Va bene. Sibilia è accolto. Di Benedetto è accolto come raccomandazione. La ringrazio. Marzana è accolto come raccomandazione. Va bene, grazie. Colonese è accolto come raccomandazione. Va bene.